Il governo ha improvvisamente deciso di aumentare di 8 lire il prezzo della benzina e gli automobilisti aderendo all'appello dell'associazione Amici del Motore per rappresaglia sono entrati in sciopero, sciopero pressoché totale, rarissimi crumiri, salvo invettive e sberleffi non hanno subito altro danno. La polizia vigilava fermamente sulla libertà di guida. Applauditissimi invece gli automobilisti che dando prova di spirito di iniziativa hanno rispolverato biciclette e cavalli pur di non piegarsi al provvedimento governativo. I più strani mezzi di locomozione sono stati visti circolare per Bruxelles. Un'autentica ovazione ha salutato un principe del foro che strecciava verso il tribunale a bordo di un paio di pattini di grossa cilindrata. Il governo ha deciso di riesaminare il provvedimento. La questione è stata affidata a un comitato che ha nominato un sottocomitato che ha creato una commissione nel cui se ne è stata scelta una sottocommissione che avendo la proibizione assoluta di creare altri organismi ha dovuto a gioco forza deliberare. Per venire incontro agli automobilisti invece di 8 lire al litro l'aumento sarà solo di 4 lire ogni mezzo litro.